Eccoci a questo nostro incontro dedicato a Roma personaggi e interpreti, l'incontro di oggi è dedicato a attori, spettacoli e teatro e ha per titolo La platea di Roma, è terribile, che è una citazione come vedremo di Goldoni. Allora, prima di entrare nel merito e vedere quali sono le indicazioni, le rappresentazioni, quello che raccontano gli ospiti o anche i romani nei confronti del teatro, di come si vive al teatro, degli spettatori, degli attori eccetera, va detta una cosa semplicissima e cioè che Roma è una città per eccellenza teatrale, sia per la bellezza dei suoi luoghi, sia perché comunque e dovunque offre che sembrano davvero quinte di teatro, offre momenti in cui lo spettacolo è assoluto, è totale, parliamo della Roma dell'Ottocento o anche prima, il carnevale, la quaresima, le feste eccetera. Allora c'è proprio questa indicazione di fondo che a Roma, insomma, a Roma è teatro e quindi non è che Roma ha i teatri, è già di per sé un teatro e tutto questo i turisti, gli spettatori, i viaggiatori e coloro che venivano a Roma, questo lo hanno praticamente sempre confessato. Cominciamo il nostro percorso e cominciamo da, l'avrete capito, da il titolo all'incontro, da Carlo Goldoni, il 23 novembre del 1758 Goldoni viene a Roma, viene a Roma perché l'aveva invitato il cardinale Razzonico che era il nipote della loro papa Clemente XIII. Era stato convocato perché mettesse in scena alcune delle sue commedie al teatro Tordinona, che era proprietà della Camera Pontificia e dice lui, nelle sue memorie, che aveva alloggiato presso un ottimo abate al centro di Roma, a Largo Goldoni, insomma, quello che oggi si chiama Largo Goldoni lungo il corso, proprio perché era il punto in cui poteva arrivare in tutti gli spazi romani di sua competenza. Va a visitare il papa, va in visita al papa e dimentica di baciargli la pantofola, una cosa gravissima e va bene e poi comincia a tentare di fare il suo dovere di autore teatrale a Roma, ma infila una serie di insuccessi. Già il suo primo spettacolo, Tordinona, la vedova spiritosa, niente, non ebbe alcun successo, come sentiamo. Sentiamo da questo suo primo suo racconto, questa sua memoria che poi avrebbe pubblicato molti anni dopo, proprio come è fatta il pubblico degli spettacoli romani, qual è la possibilità di incidere e che esito, come sentiremo, hanno avuto le sue le sue opere. In Roma gli spettacoli si aprono tutti il 26 dicembre. Ero tentato di non lasciarmi vedere, ma siccome il signor Conte mi aveva destinato un posto nel suo palchetto non potevo per educazione ricusare di andarvi. Vado, il teatro era già illuminato, si stava per alzare il sipario e ne si vedevano più di cento persone nei palchetti e più di trenta nella platea. È vero che ero avvertito essere il teatro Tordinona quello dei carbonai e dei barcaioli e che senza pulcinella i dilettanti delle farse non ci sarebbero concorsi, ma credevo sempre che un autore fatto venire espressamente da Venezia dovesse destare la curiosità e far correre la gente fin dal centro della città, ma troppo erano noti a Roma i miei attori. Si alza finalmente il sipario. Compariscono i personaggi e recitano in quel modo stesso che avevano tenuto alle prove. Il pubblico comincia a perdere la pazienza, vuole pulcinella e la rappresentazione va di male in peggio. No, io non posso più reggere, mi sento venir male. Domando in grazia al signor Conte di uscire ed egli me lo concede con molta gentilezza, offrendo anche la sua carrozza. Lascio dunque il teatro Tordinona e vado a trovare mia moglie che era quello da Liberti. Prevedendo essa al par di me la caduta della mia commedia, era andata all'opera in compagnia della figlia del mio ospite. Entro nel loro palchetto e prima che apro bocca entrambe si accorgono alla mia fisionomia del mio dispiacere. Consolatevi, mi dice ridendo la signorina. La cosa non va molto bene neppure qui. La musica non piace, punto. Non vi è un'aria, un recitativo, un rondò piacevole. Siccome essa pure cantava, era in grado di giudicarne e infatti si vedeva che tutti erano del suo parere. Le platee di Roma sono terribili e gli abati sentenziano in maniera decisiva e tumultuante. Non mi sono guardie e non vi è un buon ordine. I fischi, gli urli, le risate e le invettive suonano per ogni parte. Ma d'altro canto, felice chi piace ai collarini. Mi trovai nel medesimo teatro alla prima rappresentazione dell'opera di Ciccio De Maio. Gli applausi erano in egual modo clavorosi. Una parte degli spettatori uscì alla fine della rappresentazione per ricondurre a casa il maestro in trionfo e l'altra restò nel teatro gridando sempre Viva Maio, Viva Maio, fino all'estinzione dell'ultimo lume. Che sarebbe avvenuto di me se fossi restato a Tordinona fino al termine della commedia? Chiarissimo. Le platee di Roma sono terribili. Eccolo. Questa è l'indicazione che Goldoni dà del pubblico romano. Indisciplinato, cacciarone, confusionario, che non gli sta bene niente. Amava soltanto, fine Settecento e anche nel corso dell'Ottocento, le marionette. I spettacoli di marionette e, casomai, gli spettacoli con le maschere. Gli spettacoli verosimili, quelli goldoniani, con storie eccetera, però non lo interessavano minimamente. Quindi fallimento sia a Tordinona che ad Aliberto. Rimane Goldoni nell'inverno, come era il tour che veniva a Roma, poi rimaneva praticamente fino a San Pietro. Rimane a Roma anche nella seconda parte, nell'inverno del 59, e quindi assiste a uno dei momenti spettacolari, teatrali più straordinari che c'erano a Roma, e cioè al Carnevale. Assiste al Carnevale da un punto di vista assolutamente privilegiato, perché il padron di casa lo mette, se andate adesso a vedere proprio la casa di Goldoni che si affaccia proprio lì a largo Goldoni, vedrete che c'è un terrazzino. Ecco, e lui si affacciò lì per vedere, a lungo via del corso c'era il martedì grasso, tutto il passaggio della festa dell'Ulluminare, eccetera. Tutti i carri mascherati, tutti mascherati, quindi era una grandissima festa, come sentirete. Goldoni è molto contento, è molto entusiasta di quello che vede, ma accade un piccolo impiccio, non tanto per lui quanto per il padron di casa, che aveva invitato un sacco di persone. capirai, c'era il famoso Carlo Goldoni, erano venute un sacco di persone. Per cui alla fine a casa ad affacciarsi di fronte in questi terrazzini c'erano una sessantina di persone, come sentirete. Ma sarà poi lui stesso Goldoni a risolvere la situazione per il proprio padrone. Sentite. L'apertura del Carnevale segue quasi per tutta l'Italia alla fine di dicembre o al principio di gennaio. A Roma questo tempo di allegrezza o follia singolare per la libertà delle maschere non incomincia che negli ultimi otto giorni nelle maschere si tollerano se non dalle due dopo mezzogiorno fino alle cinque. Tutti al far della notte debbano andare a viso scoperto, onde può dirsi che il Carnevale di Roma non ha che 24 ore di durata. Questo intervallo però è impiegato molto bene. Non è possibile farsi un'idea del brio e della magnificenza di questi otto giorni. Per quanto è lungo il corso, si vedono quattro file di carrozze ornate riccamente. Le due file laterali sono spettatrici delle altre due che girano nel mezzo e una folla di maschere a piedi, che non è gente di basso ceto, corre sui marciapiedi, canta, fa mille curiose buffonerie, lazi lepidissimi, gettando nelle carrozze confetti a staia, che vengono con ugual profusione restituiti, di modo che la sera si cammina sopra farina zuccherata. In quei giorni si dà una corsa di barberi e il vincitore riporta un drappo d'oro e d'argento. I cavalli sciolti senza guida alcuna e già addestrati alla corsa, irritati da punte di ferro e incitate dai gridi e battimani del popolo spettatore, partono dalla porta della città e sono ripresi al palazzo di San Marco, dove viene assegnato il premio al primo che arriva. Avevo tutto il comodo di godere questo grazioso colpo di vista senza uscire dalla mia camera, ma dal mio ospite mi era stata destinata una finestra nella sala del suo appartamento dove era affisso un cartello nel quale si leggeva lettere cubitali finestra per il signor avvocato Carlo Goltoni. Sessanta erano le persone invitate dall'abate e le finestre non erano che otto. La gente dunque che sopraggiungeva non badava al cartello e ciascuno procurava di prendere posto per primo, onde il mio povero abate era impacciatissimo per serbarmi un posto. Potevo andare nella mia camera con sua moglie e la mia, niente affatto, mi voleva assolutamente nella sala. Mi presentano, tutto era pieno, ognuno peraltro cercava di restringersi e mi viene assegnato il posto, ma ecco delle signore, conviene dar loro la precedenza. Esco dunque con gli altri e resto fuori di posto. L'abate allora in furia e nella maggior collera mi afferra per il braccio, mi tira in camera, fa uscire la moglie e la figlia, mi spinge per forza al parapetto della finestra e si pone accanto a me, trattenendovisi fino al termine del divertimento, indicandomi le carrozze dei principi e principesse e quelle dei cardinali, di cui conosceva i cocchieri, e mi nomina i cavalli della corsa da lui distinti dalle divise. Finita la festa, l'impiccio del mio povero abate divenne più grande. Tutta la gente che era in casa non se ne andava. Egli ne aveva invitata una buona parte a cena, né più si ricordava del nome né del numero delle persone invitate. Tra i componenti di quella conversazione si trovavano dilettanti di musica. Si mette dunque insieme su due piedi un'accademia, si gioca, si canta, tutto va a meraviglia, ma nessuno pensa ad andarsene. Come fare? Il povero abate viene da me tutto tremante e mi chiede consiglio per cavarsi di paccio. Ma niente, amico mio, gli rispondo, niente paura. Voi avete fatto la corbelleria e bisogna pagarla. Ma noi siamo, dice, 40, 50. Ebbene, coraggio, caro abate, coraggio. Ma andate subito a cercare dei violini, mettete in ordine in fretta un piccolo rinfresco, fate ballare tutta questa gente e cavatevela nella migliore maniera che potete. Egli trova ottimo il mio consiglio. Fu data la festa da ballo, furono sufficienti i rinfreschi, la serata riuscì magnifica. Ognuno partì contento. Allora, è Roma che è una città che si fa teatro e si fa teatro proprio soprattutto la settimana di carnevale. A recitare, ed ecco la pagina che adesso sentiremo, erano gli attori, gli attrici, eccetera, ma anche le persone che si mascheravano, che andavano in giro facendo le loro appunto recite. Uno di questi, Marte di Grasso del 1828, fu niente meno che Giuseppe Gioecchino Belli, il quale si vestì di tutto punto da ciarlatano e raccontò, proprio fece una rappresentazione da ciarlatano, probabilmente davanti a San Marcello, probabilmente, ma non è questo, non è certo, comunque lungo il corso, proprio lungo dove passava appunto tutto il corso delle maschere, dei cavalli, delle carrozze, eccetera, e fece questo monologo, lui la chiama Cicalata, cioè un lungo monologo in cui c'è il ciarlatano. Ciarlatano è proprio un personaggio fondamentale del teatro, ed è il finto dottore, quello che dice delle cose stranissime, sta vendendo un elixir nuperrimo, è esattamente l'elixir d'amore, è esattamente l'elixir d'amore. Questo elixir nuperrimo invece fa bene, praticamente salva tutto e salva tutti. Con Stefano Messina, da questa lunga Cicalata, questo lunghissimo monologo, abbiamo tratto un momento, lui si presenta e dice guardate io ho fatto un sacco di esperienze e le comincia a raccontare. Una che racconta era avvenuta nelle Indie Pastinache, dove aveva curato un fanciullo di anni tre. Adesso le Indie Pastinache, allora che cosa sono queste Indie Pastinache? Le cita Frate Cipolla, bravo quello, buono quello, nel Decamerone. Le citano altri autori, per dire luoghi lontani, misteriosi, eccetera, e Belli, in un sonetto, dice che il continuo che ha viaggiato, ha viaggiato, è stato nella rabbia petrella, in Galigutte e appunto nelle Indie Pastinache. Allora, nelle Indie Pastinache, adesso sentiamo cosa ha combinato questo meraviglioso, bravissimo, strepitoso ciarlatano. Approfittatevi dunque, o fratelli, del vostro umilissimo servo Gambalunga, io medico per carità e, per dire come disse Dante Algeri, io mi vergognerei come un maiale, non direi in petto un'anima venale, anima mea non habit venas. Correte però, o poveri infermi di mente di corpo ed io vi lavorerò una novella salute, e affinché nessuno di voi osi dubitare della mia meschina maestria nel portare a termine ogni più indifficile cura, udite una tra le spettacolose guarigioni da me operate per città, terre, castelli, ville, umi, belli, milizie, domi, i quali tutti vogliono il genitivo, siccome saggiamente ci avvertono il chiarissimo Ferdinando Porretti, il Sanzio, lo Scioppio, lo Scaligero e il Donato. Nelle Indie Pastinage, un fanciullo di anni tre di temperamento apoflegmatico e idrocardico, andava soggetto ad un vizio inorganico nel nervo ottico dell'orecchio sinistro. Dopo tre lunazioni dalla prima diagnosi acrostica, l'occhio si fece sepolcrale, la cera cadaverica, il polso duruncolo, la respirazione epicerastica, matatetica e pruricinosa. Il ventre, splenico e girovago, inclinava al pericardio. Tutte le animali funzioni ammutinate e ribelli prorompevano in quel marasma flogistico che noi gente dell'arte chiamiamo tecnicamente pseudoressia bucefalica per pravità di ipocondrio. In sulle prime io mi era applicato totis viris ad arrestare il flusso dissenterico-elienterico, mercei bagni tiepidi di acqua vulneraria ad 80 gradi del terramometro di Reomurro. Ma conosciuto poi che lo stenesmo sopraggiunto nella cavità del timo flagitava diuretici più operosi, mi rivolsi al salasso, sapendo per verità dei codici manuscritti che sanguis emissionibus cuorem testanque dilucida, stradam angioraican pandette, spiritus educas, forza vivificam, roboram, multasque malattiasque previenitur. Allora il diafragoma divenne più trattabile, il piloro più docile l'infiema quasi superfluo e il fluido radicale pressoché equilibrato con il vascolare. Immerso qui un fiocchellino di bambagia serica, entro due once di fracastoro precipitato in una dissoluzione opiata di salprunello e di inchiostro della Cina, introdusse il tutto piano piano con il pollice mignolo della mano destra nell'orifizio auricolare dell'orecchio. E aiutata quindi la convalescenza con opportuni cristeri canforati e con alcune stille stibiate di cantaride tartarea, eliminai la ematossia, vinsi la frenitide e sedai la timpanitide. E così il sarcocele, l'idrocello e l'idronalo, combattuti inc-inde dai miei tetrafarmachi, abbandonarono il fanciullo, il quale dopo venti buoni anni di malattia, trovatosi sano, vegeto e robusto, uscì di letto per prendere stato. Avete sentito che divertente pastisce linguistico? Parole senza senso, parole buttate lì, parole che suonano bene. L'obiettivo era semplicemente vendere questo elixire nuperrimo che faceva bene e faceva miracoli insomma. Anche nei sonnetti ovviamente il teatro appare, appare moltissime volte, è un tema fondamentale. Belli vuole rappresentare il monumento della plebe, cioè ciò che la plebe fa, ciò che la plebe vive e al teatro ci andavano tutti, a Roma l'abbiamo visto e lo diciamo ci andavano tutti. Ci andavano tutti ma insomma succedevano cose strane. Questo signore è andato a uno spettacolo, a un'opera di Donizzetti, l'Anna Bolena. Donizzetti, attenzione Donizzetti, era amico di Belli, era amico di Belli e scrive l'elixir d'amore qualche anno dopo il 28, dopo il ciarladano di Belli. E allora chissà che, se vedeste i due testi, se potessimo paragonare i due testi, quelli di Belli e quelli di Donizzetti, vedreste proprio degli intrecci piuttosto interessanti. Vabbè, ma è un'ipotesi su cui stiamo lavorando e poi andiamo avanti. Allora sentirete questo protagonista di questo popolano che dice ma dove so capitare, ma davvero tutto a tempi nostri, come si intitola questo sonnetto. Ci accade di tutto, succede di tutto. Sentite che cosa mi hanno costretto ad andare a vedere. Tutte a tempi nostri. Il carnavale ha inteso Maddalena, cantracazzata fanno attorno di nona, una commedia niente bugiarona, che gli hanno messo nome Anna Balena. Eh, se può dare una cosa più cogliona, e poi fa specie si la gente mena. Ma come sa da mettere sulla scena una balena in musica in persona? Dice che sta bestiola piccinina, un re se l'era presa ve puttana e poi la fece incoronare regina. Non c'è mancantro moppe d'illa sana che annassi il papa e con l'acqua marina gliela facessi diventà cristiana. Anna Balena è meraviglioso, Anna Balena. Una balena che sta in scena, ma come c'entra in scena. Vabbè. Altro sonetto di Belle, anzi in realtà due. Sono due sonetti una presa all'altro. È teatro, ecco. È un sonetto sul teatro, ma è già teatro. È proprio un mimo. Un signore un po' corpulento, insomma ciccione, arriva al posto suo, cerca di mettersi seduto e scopre che non c'entra. La sedia è troppo stretta. E allora se la prende con la maschera, sora maschera, con le povere maschere sempre presa, sempre prese di mira da tutti gli spettatori. Se la prende con le maschere, sentite che cosa viene fuori. Poi siccome il pubblico comincia un po' a ridere, a interagire, a voler dire qualcosa, sentite alla fine come si rivolge al pubblico che sta lì intorno. Lì posti. Sora maschera mia, sede un coglione. Me parerebbe, sangue d'un giudio, che n'abbi da sapere domine il Dio, un po' più de chi ha fatto tordinone. E sì, so grasso, ce n'ho corpa io? Potevio fa' più granne la porzione. Quando io spenno per Cristo ermi testone, voglio un posto adatto al culo mio. E in che danno ste tavole, ste fotte de' tramezzi, che un uomo ce sa tappa come fosse il turaccio d'una botte? Qua il culo mio non c'entra e non ce scappa. E pe da gusto a voi, sore marmotte, io non me taglio una fetta de' chiappa. Lì culi so' un pellantro e vanno a coppia, un grasso e un magro, come li capponi. Ne vie uno e li buci gli esobboni, ne vie un altro e ce voppie danza doppia. Vedi ch'idea de fa' sta fila stroppia de' scatolette de' limicoioni che er secco ce se sguazza li carsoni e er grasso non ce cape o ce se stroppia. Insomma, sor cazzaccio, io non vadulo, un delle due, o li misa i lustrini o un posto a chiappe mie, asino o mulo. Che c'è da ride qua? So ripaini, è meglio a darli quadrini per culo, che il culo come voi per i quadrini. Beh, è un personaggio indimenticabile, no? Ciccione, che finisce proprio con quell'insulto clamoroso alle persone che gli stavano intorno. L'ultimo sonetto, l'ultimo sonetto di Belli suoi, gli dicevo, sono tantissimi, che è una chicca, una delizia. Un papà porta un figlio o una figlia, non sappiamo, a teatro. Ed è la prima volta che sta creatura va a teatro e viene catturato dalla magia. Ma il bello, che non è la magia proprio della rappresentazione, è la magia del luogo, le luci, le tende, gli spettatori. A teatro tutto è teatro. Anche quello che non immaginiamo, non ci ricordiamo che sia teatro, il luogo, lo spazio, le tende che si aprono. Io lo dico sempre, per me il più bel momento che vivo a teatro è nell'esatto istante in cui si apre il sipario, perché non so cosa succede. Devo entrare, mi devo far catturare. Ecco, qui Belli prende esattamente questo momento e questo papà è carino nei confronti di questo bambino o bambina che fa le domande tenerissime e il papà gli spiega che cosa sta succedendo, che cosa succederà. La Commedia Tata, che dè qui su? La piccionara. Tata, e non c'è nessuno? È a buon'ora. Chi è quella alla finestra? Una signora. E questa accanto a noi? La lavannara. Oh, quanta gente! E in dove stava? Fora. E mo' sona la tromma. Quanta è cara! E sto lampione in mezzo? C'è ripara. Poi lo tirano su. Non vedo l'ora. Chi c'è? La drento in quella bucia scura? C'è il soffione. E sti moccoli de cera? Soppe la sinfonia. Sì, e quanto dura? Zitta! Va su Ertelone. Eeeh! È gente vera! Già! E quelli tre? Chi sono? Redda frittura. Che ci vengono a un Paolo Pessera. Ecco, è molto carino. È un sonetto davvero, davvero... Belli e capaci di sonetti di una sconcezza clamorosa, ma anche di queste notazioni che sono anche psicologicamente estremamente interessanti. Belli è stato anche autore di teatro e ha scritto dei testi teatrali in italiano. E allora, un po' per fargli omaggio, un po' per farlo conoscere, perché questo testo credo che non sia mai stato messo in scena da quando fu pubblicato nel 1816, 1816 anni, parliamo di duecento e passa anni fa. E dunque, è carino, è interessante tentare ogni tanto di risentire certe cose. Allora, il testo, la commedia si intitola Il tutor pittore ed è preso da una commedia francese, ma diciamo, l'episodio che volevo sottolineare, che adesso sentiremo, interpretato a due voci da Stefano Messina. Allora, il protagonista Florival si innamora della protetta, classico intreccio, di un vecchio che si chiamava Cerberti, ed era proprio Cerbero, era proprio un vecchiaccio antipatico, sospettoso, gelosissimo di questa sua fanciulla. Ovviamente finirà bene, ovviamente, saranno insieme Florival e la fanciulla. Questo Cerberti collezionava e commerciava in quadri e allora Florival, per stare vicino alla sua pupilla, si traveste, si veste così e dice che è l'esperto tedesco Kesserman, che il Cerberti aspettava da tanto tempo. E questo esperto tedesco Kesserman gli doveva portare, a lui Cerberti aveva affidato dei quadri e gli doveva dire delle cose e devono relazionare insieme. Ecco, sentirete i due che parlano, Cerberti che parla un italiano, un compito importante, e Florival che tenta un tedesco maccheronico, si impiccia in questo tedesco inventato, sentirete un gioco di parole molto divertente, come sentirete, ma che ahimè, ahimè, per Florival non avrà l'esito che lui spera. Scena ottava, Cerberti e Florival. Cerberti Siete dunque voi, caro Monsù Kesserman? Ja, entrare, quanto sono contento di vedervi. Ja, io pure avuto molta tesiteria. Se i miei quadri hanno ottenuto in Germania qualche successo, io lo debbo alle vostre sole premure. State per me piacere tanta magnifica te servire come crante e crosse talente. E me ne sono bene accorto io che voi guardavate quel quadro della Danae con estasi, crante artire, crante cenie, crosse talente. E dove state dunque vostra casa? Eccola, ma avete rilevato quell'abbandonamento, quel tocco di pudore? Niente fuggita, tutta fatuta, tutta. State testa, tifine. Ja, oh, state fisso, fisso, tifine. E quelle braccia amorose, quelle mani tenere e tremanti, tifine. E il colorito, come lo trovate voi? Tifine. E quella nugola di azzurro, e quella pioggia d'oro, tifine. Ma entrate in ta vostra casa, io l'ho potuto meglio discorrere da quattro. Ma ditemi, come avete voi potuto introdurvi in accademia così di buon mattino. Come io, io state straniere e arcente far tutto, eh? E intendo, e aiuta molto, molto artore a fettere nove cose di scuola francese, ja. Ma io prego a fulminare io dentro vostra casa, perché io state morte da foglia, fettere vostro studio. Come mi pressa questo qui? E c'è qualche cosa sotto. Sembra indeciso. Che non fosse Keserman. Dissipiamo i miei sospetti. «A proposito, Monsù Keserman, qual partito avete voi tirato dalla mia Antigone?» «Vostra Anticone?» «Fentute!» «Ah! Vendute!» «E per quanto?» «Fior mille fiorini!» «Moneta contante?» «Ja!» «E tip sole valute tutt arcent te antre figure!» «Il compratore?» «Ho scordato affatto il suo nome, e non era egli il Granduca di Pafiera!» «Gia, già, già, è vero, il Granduca di Baviera!» «Sì, sì, sì, sì!» «E la mia proserpina, fostra proserpina?» «Fentute!» «Vendute anch'essa!» «Ma benissimo!» «E a chi?» «Fentute!» «A Kaiser, all'imperatore!» «Ma non mi avevate voi scritto di averla venduta ad un artefice di strumenti da fiato?» «Ma artefice volute da corn de caccia, e io non volute corn ripigliate proserpina che poi aveva venduta a Kaiser!» «Ah! E quanto ne avete ritratto?» «Ritratto? Voi volete farmi ritratto?» «No, no, no! Dico qual prezzo avete ricevuto di quel quadro!» «Miller Fiorini!» «Che mi avete portato?» «Noi, noi!» «Le avrete tra un anno!» «Arcent secure!» «Bene, bene, bene, bene!» «Io non dubito di questo, benché l'imperatore sia solito pagare subito. Ma, già che siamo al proposito di quadri, bisogna che vi consulti sopra un soggettino. Che storia? Ne giudicherete!» Dunque, sono due i personaggi che lo compongono. Il primo, un vecchio pittore, ma ancora robusto e sagace, il quale ha fama di tenercelata una giovinetta che serve a lui di modello nelle sue opere. Barbone di cinquant'anni, testa caratteristica, occhio sfavillante, sorriso maligno. Fisionomia imperturbabile. Il mio secondo personaggio è un bel giovinetto, vero, eroe d'intrigo, statura vantaggiosa, molto avvenente, occhio rapace. Io ne ho il modello. Il giovine, presuntuoso, ha intrapreso di introdursi in casa del pittore e per far ciò si è trasformato scaltramente in un tedesco mercante di quadri. Ma il Barbone, avvezzo a fiutare i galanti, crede a vedersi della insidia e per convincersene gli parla di un antigone che non dipinse già mai, di una proserpine a cui già mai non pensò. Il giovine allora si confonde, si costerna. Ebbene, che pensate voi del mio quadre, eh? Non trovate forse il soggetto assolutamente piccante? E come, è piccante. Ma, ma, entra! Perché io state morte di foglia. Ma che foglia e che tronco! Finiamola una volta e abbandoniamo questo artificioso linguaggio. Voi non siete che un amante travestito e quantunque io non l'abbia osservato che alla sfuggita ho forti sospetti che voi siate quell'uffiziale che te stepper qui sia aggirava. Chi? Io? Voi, voi stesso! Perciò, confesso che l'assalto è stato vivo ed ardito. Io vi aveva realmente preso per il tedesco Kesserman, ma l'ardente desiderio da voi tanto spesso mostrato di entrare in casa mia ha in un momento dissipato l'ombra che mi circondava. Nel caso poi che vogliate degnarvi di combattere ancora con me, procurate, destro seduttore, di meglio celare le vostre prame, di evitare le mie dimande, di cambiarvi, se è possibile, in altro uomo, e soprattutto di non collocare più le proserpine presso gli strumenti da fiato. Facciamo un passo in avanti dopo Belli. Con Belli siamo alla prima metà dell'Ottocento, e torniamo verso la fine dell'Ottocento. Fine dell'Ottocento, Gigi Zanazzo, grande scrittore in romanesco, e scrive poesie, e scrive novelle, e fa la raccolta dei proverbi, la raccolta delle leggende, delle favole popolari, un autore fondamentale, era anche, appunto, dicevo, poeta, e a un certo punto scrive in sestine questa n'infornata al teatro nazionale, un'infornata, e cioè tutto esaurito, ecco, al teatro nazionale dove va il popolo romano, il teatro nazionale, il teatro, come sentirete, in cui gli attori fanno i ruoli importanti, la battaglia di Don Cisvalle, Orlando, Rosavia, il re Carlo Magno, cioè tutto il grande repertorio della tradizione epica classica, e sentirete come il popolo romano, che già abbiamo conosciuto da Goldoni, figuriamoci come reagisce a tutte queste parole strane, misteriose, che dicono i due, che dicono i vari personaggi che stanno in scena. Gigi Zanazzo, n'infornata al teatro nazionale. Scena 151, personaggi Orlando e Rosavia. Siamo fottuti, oh regina, il campo è perso. Parli da senno, Orlando, oh il ver non dici. Mi fulmini il fattor dell'universo, assaliti e respinti dai nemici. Oh, rabbia, glielo dico, ho messo zitto. Rosavia, il re, presso di me, cascò trafitto. Ma dunque, oh giusto ciel, dunque tu puro contro di me, con giuri, e che t'ha fatto? Fuggiamo, so del rullo del tamburo, e salvar non ci può, che fuggi il ratto. Sì, ma prea di lasciare i lari miei, muoie Sanson con tutti i filistei. La regina da un pugno in uno specchio, cala il telone e buonanotte al secchio. Bravo! La rivolemo! Visse! Bene! Fora! L'anima! Visse! Alimonaro! A tu! Te piace? Ah no, che belle scene! Hai sto orlando? Sì, che bel vestiario! Oh, ma che lo specchio si è rotto per davvero? E che non l'avete visto che era vero? Ah, sor Giovanni, che ne dite voi? Affregna, padron Marco, è proprio bello! Pareno personaggi come noi! Io me son messo qua in sto cantoncello e non me ne so perso che sia un ogna! Ho quel voglia di margutte, che carogna! Fa rabbia! Se non fossi un burattino già sarebbe salito in cima al parco a dargli una stranita a quel crostino! Me ci sento un non so che, né padron Marco un non so che che è? Ma che poi vi è far farello? Ozziccatevi! Sennò non è più bello! Ma dimmi un po', ma la regina more! Ah no, puzza di cacio all'ultimatto! Ma chi l'ammazza? Margutte traditore! Allora Orlanno dice A mente cato! E li zin! Mette mano a durlindana e succede una scarica puttana! Perfidi madanzesi! Orsù moriamo! Zin! Zin! Oh, affregnone! Ma te stai fermo! Mi inficozzi al cappello! Lo scherzamo! E scusate, scusate, mi pareva che era l'ermo dei margutte, il gigante musulmano! E beh, cerca di stare fermo con le mano! Secondo atto Orlando e Rosavia svenuta Piangi, Rosavia, giacché ne hai ben donde! Non poteva mio avere maggior danno! Pur io veggo le piaghe tue profonde Nel vederlo piango e mi ci danno! Oh, musulmani! Oh, perfida arroganza! Oh, non vedi lei se sta a grattà la panza! Chi parla? Chi si dolce accenti espone? Sono io! Rosavia! Tu! Dammi un abbraccio! Oh, e noi attastami il cornicione! Finché il mio regno avrà si forte braccio! Credimi, Orlando! Il riposarmi è caro! Dammen un sordo a me! Oh, bruscolinaro! Siedi, oh, Rosavia! E asciuga ormai la faccia! Siediti a me vicino! No! E perché? C'è un peticella al culo, poveraccia! Potevi confessarlo prima a me! Perché invece celarmelo, oh, regina! Già, mo per lui si mette a columbrina! Questa, dunque, la fede che mi servi! Sposar non mi vuoi più! Giuro al demonio Orlando! Pensa ai miei dolori accerbi! Sai tu che fetto faccia il matrimonio! Fa tritticà alle tavole del letto! Lo sapeva! E per questo non l'ho detto! Lo sapeva che re di tu non vuoi Per lasciar la corona al re di Francia Ma abbandonarmi tu no! Non lo puoi! Pensa che perdi ormai la miglior lancia! Pensa! Ma vengo il re Carlon che viene Per non farlo incagliar! Cantarla è bene! Salve, oh, Rosavia! Sira di Maganza! Mi duele del reo caso che ho saputo Ma se tu poni in me la tua fidanza Presto sarò il tuo sposo e il più cornuto! Oh, quando parla sto boccio di Carlone Pare in gatto che c'ha un ciccarpormone Oh, e mo, scherzi! Ti è state qui ed estate! Accidentà, c'è pure le creature! Oh, fermi, ragazzi! Non intruppate! Stasera fammo quattro botte e cure! Oh, e sta fermo con le mano! E che so io! È stato lui! Io sto per fatto mio! Oh, là tu che rughi! Tanto fatte avanti! Te possino ammazzate e te lo sfiguro! Ma chi sfiguri! Ma guardatemi i garganti! Oh, non cercate di far mai tanto il duro! Oh, giovenotti! Otto! Ergatto in caia! Vedo rincar casecci che scannaia! Mondo birbone! Unni momento risse! Vogliamo smettere o no? Brutta canaglia! Oh, braver pitalettaro! Bene! Bisse! E che so io! Ma che so io! Ma lei se sbaglia! Oggi di vesti ladri dio patata! Se dura se n'ha da fare un'arretata! La recita di domani! Rispettabile pubblico, domani si ripresenterà quella tremenda strage di roncisvalle dei cristiani con la morte d'Orlando in della tenda! C'entra Arlecchino! Eh no! E c'entra sicuro! Ce fa la parte de' Morgante Erduro! Vedrete, ragazzi, che tragedia! Sciabbolate de' qua! Sleppe de' là! Cose dico da faccina commedia! Venite, che c'è puro da mangià! E purcinella c'entra, eh? Sor capanna! No! C'entra la frescaccia che ve scanna! Non finisce di di sta parolaccia che gli hanno corto una torsata in faccia! Belli gusti de' carro! Chi è stato? Magnatelo pe' cena! Patirai! Io patirai! Ma soltanto abbottato de' vino e de' mangià che non se mai va rigettarsi in bocca figli d'un cane c'è state bene due giornate sane! E dopo avergli dato sta lezione fa Marco sfila e cala giù Ertelone! E arriviamo a quello che forse è, adesso la dico un po' così, il più importante, il più grande di questi… di chi ha fatto teatro a Roma come attore, come autore, eccetera, e dico ovviamente Ettore Petrolini che ha avuto tra la sua sfortuna, la sua terribile tragedia e morì che aveva 53 anni, nel pieno della manifestazione della sua potenzialità. Ettore Petrolini attraversa il teatro romano, ma non solo romano, attraversa il teatro e ne è un assoluto protagonista, tanto che alla fine scrive un libro di memorie che si intitola un po' per Celia, un po' per non morire, che era poi una delle sue frasi famose. Allora, nell'episodio che adesso sentiamo, lui è giovanissimo, viene preso come comparsa al teatro Gambrinus e siccome il proprietario del teatro Gambrinus non gli dava una lira, con un suo amico prendono l'occasione al volo e vengono ingaggiati per un teatro, per una rappresentazione teatrale a Civitavecchia. Ora, sentite cosa capita al giovanissimo allora Ettore Petrolini. Un cameriere del Gambrinus mi disse che mi cercava un tal Forzatino, agente teatrale del caffè concerto La Scaletta di Civitavecchia. Un'ora dopo ero intimo amico del Forzatino. Stabilimmo di partire per Civitavecchia la sera stessa. Non si parlò di condizioni. Il Forzatino mi disse che mi avrebbe pagato il viaggio e che per il resto, dato che avrei avuto a che fare con degli amici, potevo stare più che tranquillo. Vedrai che pacchia mangerai a quattro ganasce. Sì, tranquillo, è una parola. L'impresario di Civitavecchia si chiamava Don Cesare, un ex paranzellaio sorrentino il quale era anche proprietario di un locanda soprastante al caffè concerto e di un forno di castagnacci. Fu la mia nuova casa e bottega. Don Cesare mi impose subito le sue condizioni, dicendomi, ti darò da manciare, da dormire, nu pizzico di bronzo per i tuoi vizi, castagnacci e pizza di ceci a strafottere. Il pizzico di bronzo consisteva in una lira al giorno, ma poiché a Don Cesare gli affari non andavano come le sue paranzelle a gonfie vele, il pizzico di bronzo dopo cinque giorni fu decimato, poi sparì del tutto e allora naturalmente sparì anch'io. Ma non era facile tornare da Civitavecchia a Roma senza un soldo e allora, pensando che tutte le strade portano a Roma, me ne andai alla stazione e diedi una guardata allo sportello del bigliettaro e partii a piedi. Ma fortunatamente solo per pochi chilometri. Verso Santa Marinella trovai un carrettiere, che Dio gliene renda merito, che mi portò fino a Roma e mi lasciò a Ponte Garibaldi. In compenso gli recitai tutto il mio repertorio, che non so quale razza di impressione gli dovette fare. Mi disse ma di ben boh, ma tu ci cambia di ste fregnacce? Eh? Io ti dico la verità, io non ci sarebbe buono, me ne vergogneria. E arriviamo alla conclusione di questo nostro incontro, ancora con Petrolini. Ancora con Petrolini che continua il racconto, un po' per Celi e un po' per non morire, che è il suo libro di memorie, e ci porta a quello che poi sarebbe diventato il suo teatro per eccellenza, e cioè il teatro Iovinelli. Il commendatore impresario Giuseppe Iovinelli aveva messo su un teatro e aveva preso fra i commettori e anche Petrolini, che lì comincerà il momento più importante della sua carriera almeno a Roma. Era il teatro che ancora oggi è, che si chiama Ambra Iovinelli, lì a piazza Guglielmo Pepe, che è esattamente la piazza dove si apre il teatro Ambra Iovinelli, all'epoca teatro Iovinelli. Ora, abbiamo cominciato questo nostro incontro dicendo che Roma è teatro, quindi non è solo i teatri di Roma, gli etteri di Roma, Roma è già di per sé teatro. In questa descrizione di ciò che accade a Piazza Guglielmo Pepe, che fa Petrolini nel suo libro di memorie, sentirete come esattamente quel luogo lì, che era il luogo dove si affacciava e si affaccia il teatro, quel luogo lì era già teatro, perché già era pieno di un'umanità, di una serie di iniziative, di cose che si vendevano, che si proponevano, di umanità, che appunto si mascherava, recitava in varie cose, ma non come le recite come noi le manginiamo al teatro, ma proprio recitava dei ruoli specifici perché doveva vendere delle cose. E allora, ecco, siamo partiti dicendo a Roma tutto è teatro, chiudiamo dicendo, anche Petrolini ci dimostra, ci rivela, constata che a Roma è tutto teatro e dunque anche il luogo, lo spazio intorno a cui si affacciava il suo teatro, il teatro Iovinelli, era pieno zeppo di momenti e protagonisti e luoghi teatrali. Piazza Guglielmo Pepe era un enorme piazzale consacrato alle baracche dei ciarlatani ed era il ricettacolo dei vagabondi e dei poveri guitti. Era un'accozzaglia di passatempi per tutti i gusti, uno più solacevole dell'altro, non escluso quello dell'alleggerimento simultaneo del portafogli e dell'orologio. La grande piazza ospitava ogni sorta di baracconi, dal tiro al bersaglio al museo anatomico, dal carosello al teatro dei galli che cantavano e ballavano prodigiosamente sopra una lastra di bandone. E potevate inoltre trovare la donna barbuta, il teatro mercipinetti con il mistero di abracadabra, il teatro meccanico con la nevicata, il grande museo anatomico di cose inutili e disgustose a vedersi, premiato con diplomi e medaglie d'oro in tutte le accademie di scienze del mondo. Il proprietario, Savarino, diceva con accento straniero, cento e più figure di cera al naturale, spettacolo scientifico interessante e di alta coltuga. C'era il serraglio con il celebre domatore Calligola, il quale diceva, non si lasciano sfuggire l'occasione di vedere da vicino al naturale le bestie più rare e più antropofaghe di tutti i paesi del mondo. Entrino, signori, favorischino, vedranno la tigre azzurra in miniatura, era un gatto persiano, il leone cornuto delle foreste vergini, una specie di torello con il pelo lungo. Vedranno esibirsi il mostro dell'aria, il terribile avvoltoio dell'Himalaya, assisteranno al pasto eccezionale, si nutre esclusivamente di piccoli volatili e di molluschi, era un'aquila spelacchiata più morta che viva. E infine, per centesimi venti, vedranno il celebre Caramal, la spaventosa fiera che di nottetempo si introduce nei cimiteri di sotterra i cadaveri e se li mangia, vivi! Era uno sciacallo puzzolente e cieco da un occhio. E proseguendo nel vostro giro istruttivo avreste avuto campo di ammirare sulla piazza una turba di girovaghi. Saltimbanchi, cavadenti, mastice per attaccare, gazzose, biciclette a noleggio, callaroste, fichi secchi, mosciarelle e caramellari. «Duri di menta, zucchero afilato alla vaniglia, sisco della nora, sisco della nora!» urlava quella velena popoli che li vendeva. Bibite al ghiaccio di qualunque colore e sapore, menta, lampone, ribes, cedro, grattachecca. Gelati, si intende premiati, non c'era nulla che non fosse premiato. Un soldo, due bicchierini. Dolciumi di tutte le specie con la mosca fissa. La mosca, poverina, rimaneva sempre imprigionata sotto il pezzo di garza che doveva proteggere le paste dal suo diciume. C'era Pepparello, che cantava l'atroce delitto di Formilli, la tragedia di Piazza Sora, le avventure di Stefano Pelloni, detto il Passatore, e la storia del soldato Misdea. Canto il dramma terribile e funesto della caserma di Pizzo Falcone, dramma che forse mai, siccome questo, destò ribrezzo, orrore e compassione. C'era la sonnambula, che tanto mi entusiasmò da indurmi a creare una parodia che ebbe lieto successo in una delle mie prime riviste. L'imbonitore presentava la sonnambula con queste parole. Signori e signore, la tonna che qui voi fetete è una sonnambula. Concia so che sia che per un filomeno ipignotico il lava intovinare qualunque secreto di persona sia uomo, tonna, ricazza o mare tappile. Dopo questo sproloquio, la sonnambula rispondeva. Sì, o signori, tutto è intovino, il passato, il presento e l'avveniro. Se avete qualche parendo malato all'ospitalo o in calera e se la vostra fidanzata vi sta facendo qualche maracchella. Dopodiché l'imbonitore, preso un fazzoletto nero, diceva. Ora vate a mostrare a questi signori l'imbotenza magnesiaca di questo filomeni ipignotico. E qui vendava gli occhi alla donna con la quale aveva una parola d'intesa perché poi con una bacchetta toccava un militare e la sonnambula diceva. Adesso sta toccando un malatare, adesso una giovane ricazza, adesso un simbatico caporale dai carpenieri e via di seguito a seconda dei loro accordi. Non appena l'imbonitore discoteva i due soldi, la sonnambula sbrodolava questa filastrocca. Oggi va notto che a me stai avanti, non ti fitarti chi ti fa l'amico, sta bene attendo a quello che te tico. E poi la solita storia della fortuna inaspettata dopo molte sofferenze, i quattro figli, la vita lieta fino a 89 anni e gli immancabili, tre numeri da giocare per la ruota di Napoli o di Bari. E infine il padiglione delle meraviglie, con il terribile Amalù che si passava sulla lingua un ferro arroventato. L'imbonitore così presentava il terribile mostro, rispettabile pubblico. Le più grandi scoperte dell'erudizione del genio moderno possono osservare in questo padiglione. Venghino a constatare di persona, poiché il divertimento è grande e la spesa minima. Abbiamo nell'interno le meraviglie del secolo, del mondo acquatico e terroso. C'era nell'interno del baraccone una foga imbalsamata e una pelle di con la testa impagliata. L'uomo che mangia manichi di scopa, salvatacchi, mozze di sigari, lumi a petrolio e chiodi di qualsiasi dimensione, ha sempre l'intestino imbollettato e quando si purga ci vogliono le tenaglie. Avalù, il terribile selvaggio catturato nelle foreste del mazzabubù sulle rive del Peloponneso. E dall'inferriate della carovana si vedeva la testa del selvaggio, un poveraccio che per mantenere navagonata dei ragazzini e la consorte faceva l'antropofago del Peloponneso, il quale con urli e strepiti scagliando saette dagli occhi e con espressione feroce si agitava contro l'imbonitore che gli mostrava un coniglio o una gallina che egli dall'interno non poteva afferrare. Una specie di supplizio di tantalo. Si udiva poi un rumore assordante procurato dall'attrito di una catena che passava sopra l'inferriata e che era tirata da una parte dall'imbonitore e dall'altra dal selvaggio. Come vedono, signori, non si inganna nessuno. Ai buoni posti non c'è un momento da perdere. Più presto si entra e più presto si vede. Un ultimo segnale e si va ad incominciare. Musica! Ale! Ale! Ai buoni posti! Ai buoni posti! E qualche malcapitato entrava anche per riposarsi soltanto cinque minuti. La piazza era arida, polverosa, sassi per terra come ovi destruzzo. Si poi pioveva, con i piedi te nannavi in barchetta e gli schizzi te fanga te arrivavano al barbozzo. Ecco com'era piazza Guglielmo Pepe a quei tempi. Grazie!